Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui a portarvi il secondo episodio dei Potential Upgrade di gennaio di FIFA 15. Sono davvero contento che il primo episodio abbia ricevuto così tanti mi piace, così tanti commenti. Vi invito infatti ovviamente a lasciare un bel mi piace, 400 mi piace, uscirà un nuovo video di questa serie. E a continuare a scrivermi nei commenti quali sono secondo voi i giocatori che dovrei trattare nei prossimi episodi, sia della Serie A che esteri. Comunque andiamo subito a parlare dei tre giocatori di questo episodio. Il primo in particolare viene dalla Serie A nel Milan, stiamo parlando di Jeremy Meness che è senza dubbio il miglior giocatore fin qui del Milan. Cioè quello che ha trascinato di più la squadra con 9 gol e 4 assist in 18 partite. Si tratta di un giocatore che potrebbe ricevere un upgrade perché davvero sta, secondo me, dimostra in real life qualcosa di più rispetto a quello che è segnato sulla carta. Soprattutto per esempio il tiro che mi sembra un po' bassino. Questa sarebbe il suo upgrade secondo me con un più 2 di overall e ovviamente un cambio di ruolo perché lui non ha mai giocato, si può dire, da alla destra, bensì da falso 9. Quindi sarà a T. Prevedo questo più 2 di overall con un più 1 di velocità come potete vedere, più 3 di passaggio, più 2 di tiro, più 2 di passaggio, più 2 di dribbling, penso sia necessario. Poi vabbè difese fisico hanno un più 1 e un più 2 rispettivamente. E come sappiamo lui ha ricevuto all'inizio di FIFA 15 una versione IF perciò questa sarebbe la versione IF 80 che viene upgradata a 81. E più o meno le statistiche prevedo che saranno circa queste con un più 1 in velocità come succede in tutte le versioni IF. Un più 2 nel tiro, un più 2 nel passaggio, un più 2 nel dribbling, un più 2 in difesa e un più 2 in fisico. Quindi quasi tutti i più 2 tranne la velocità. Tra l'altro ultimamente si sta alzando di brutto il prezzo di Menez perché probabilmente uscirà upgrade e quindi la gente comprandosi la versione IF poi ci guadagnerà perché verrà automaticamente upgradata. Ovviamente solo le versioni IF, non le versioni in IF e quindi ci guadagnerà dei crediti. Andiamo con il secondo giocatore di oggi. Ci spostiamo in Spagna e stiamo parlando di Antoine Griezmann che sta giocando veramente bene con l'Atletico di Madrid facendo 2 assist e 11 gol in 28 presenze con la squadra di Simeone. Stiamo parlando di un giocatore che ha ricevuto già due versioni IF, quindi una versione IF e una versione second in form. E' andato vicino sicuramente a una third in form, quindi questa per me sarebbe la sua versione upgrade dove troviamo un notevole aumento del tiro oltre a un più 1 di velocità. Un notevole aumento di tiro che secondo me è necessario perché è un giocatore che fa tanti gol e quindi gli serve un tiro maggiore. Anche perché c'è questo sostanziale cambio di ruolo da ala di sinistra ad attaccante perché lui gioca proprio a attaccante o seconda punta più o meno nel modulo di Simeone. Quindi verrà cambiato anche il suo ruolo. Poi abbiamo un più 2 di passaggio, un più 2 in dribbling, un più 1 e un più 1 in difesa e fisico. Quindi una carta sicuramente interessante. Non andiamo a vedere come si trasformerà la carta IF in quella SIF, cioè come verrà upgradata la versione IF perché si trasformerà in quella SIF. Andiamo invece a vedere quale sarà la trasformazione, l'upgrade della versione 84 di Griezmann che diventerà come vedete qui 85 e più o meno io prevedo queste statistiche che sono, guardate ragazzi, sono pazzesche, 88 di velocità, circa 89 di tiro, 88 di dribbling, 81 di passaggio è davvero una carta che varrà in milioni perché costerà davvero un botto. Ma comunque guardate che statistiche, fanno veramente paura. Catapultiamoci invece sull'ultimo giocatore di oggi, ci spostiamo in Barclays Premier League, un giocatore che mi avete consigliato tantissimi ma comunque avrei fatto perché merita tantissimo. Cioè Harry Kane del Tottenham che sta letteralmente trascinando il Tottenham sia in campionato che in Coppa che in Europa League con i suoi 18 gol e 3 assist in 28 partite. Davvero una media abbastanza alta. Questa per me sarebbe la sua versione upgrade. Come possiamo vedere rimarrà secondo me argento perché secondo me ci sta argento con un notevole aumento di velocità, più 4, cosa veramente molto alta secondo me, più 5 di tiro, più 4 di passaggio, più 3 di dribbling, più 3 di difesa, più 6 di fisico. Diventerà veramente una carta ottimissima. E come sappiamo Kane ha ricevuto una versione IF, quindi la sua versione IF 71 diventerà versione IF upgrade a 74, quindi uno in più della sua versione upgrade non in forma. E guardate qui che statistiche molto molto buone, velocità che aumenta di brutto, come del resto anche il tiro, passaggio, più 2 dribbling, più 4 di difesa, più 6 fisico. Davvero secondo me potrà raggiungere queste statistiche perché prima di tutto se lo merita e poi penso sia necessario aumentaglielo così. Comunque ragazzi fatemi sempre sapere nei commenti quali sono i giocatori che vorreste che io tratti nel prossimo episodio. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a 400 mi piace uscirà un nuovo video e vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!